un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana su raccordo autostradale Siena Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate senso unico alternato all'altezza del chilometro 27 nel comune di Borgo ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza chiudiamo con i treni per un guasto a un passaggio a livello a Tassignano i regionali percorrenti la linea da Lucca a Firenze potranno subire ritardi o variazioni Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana città metropolitana e comune di Firenze vi auguriamo un buon viaggio